Ben tornato presidente, può definirsi un selfie della situazione italiana attuale secondo te Giuseppe? Sì perché comunque l'attitudine è tipicamente quella del selfie, una foto che potrebbe essere tranquillamente scattata da qualcuno ma preferiamo farcela noi in maniera anche un po' sghemba. Dare un'immagine anche distorta della realtà, di un divertimento che non c'è, di una positività che è soltanto d'apparenza di facciata, a noi ci piace molto questa come definizione. Come è stato lavorare ad un sequel? Noi ci siamo approcciati come se non lo fosse, la prima cosa che abbiamo messo in chiaro con tutti, anche con Claudio Bisio, era stata guarda questo è un sequel ma non lo è, è qualcosa di totalmente diverso. Io credo che sia stato molto bello anche per lui confrontarsi con, per lui e per tutto il cast diciamo confrontarsi con il nostro modo di fare che è abbastanza schizofrenico per certi versi. Un po' perché siamo in due, un po' perché siamo cresciuti divorando cinema e quindi anche involontariamente tendiamo a citare spesso e penso che il risultato è quello che dicevi tu, un selfie. È un selfie. Sono fatto da due persone quindi ancora quei selfie. Un selfie a due è una roba proprio terribile. Bisio l'ha definito un film anticattivista, era questo il vostro intento? Ma sì insomma c'è questa tendenza a considerare il buonismo una cosa o apertamente schierata con una certa fazione politica o qualcosa di assolutamente negativo. Sicuramente forse la deriva anticattivista che vorrebbe aprire questo film e che Claudio ha definito così in maniera calzante serve un po' a questo, serve un po' a uscire da questa ondata di eccessivo sproloquio verbale. Prima determinati pensieri, come diceva anche Umberto Eco, o si esprimevano al bar oppure rimanevano tra le mura di casa. Adesso c'è la tendenza a pensarli e a farli cadere direttamente sulla tastiera. Casi recentissimi, freschissimi, ieri stesso lo dimostrano. Quindi sì insomma c'è un tentativo a cercare di liberarci un po' da questa cattiveria insensata che ha colpito un po' tutti quanti noi. Non parlo dei politici, parliamo dei politici ovviamente, parliamo di noi italiani e forse anche noi umani. Il film è piaciuto ai politici che voi sappiate? Ma in realtà abbiamo un solo politico che ha parlato del film che è Gasparri. Che ho gradito. Forse perché la destra è l'unica fazione politica che non c'è nel film se ci pensi. C'è un tipo di destra. Altri, non lo so, abbiamo cercato in tutti i modi di ottenere un tweet di Salvini, un'uscita così di Di Maio, ma in realtà no. Però chi lo sa, magari l'hanno visto, hanno pianto, hanno riso, chi lo sa. No, io Salvini era troppo impegnato a farsi i suoi di selfie per vedere altri selfie, quindi è molto egocentrico. Ragazzi, progetti per il futuro a cosa state lavorando? Sicuramente starete facendo un film per ritornare all'Ischia Film Festival il prossimo anno. Assolutamente, infatti noi adesso stiamo già pensando come tornare l'anno prossimo, perché l'anno scorso siamo qui con Mettila Non in Freezer e andati via ho detto, vabbè, dobbiamo senz'altro fare qualcosa. E' quello che stiamo facendo in questo momento, perché noi vogliamo ritornare all'Ischia l'anno prossimo, quindi qualsiasi cosa va bene, un film, una serie. Esatto, diciamo che non rispecchia una scelta stilistica o poetica. Aspetta, quale film può piacere a tal punto da essere invitati all'Ischia Film Festival nel 2020? Esatto. Avete pensato? Eh, ci stiamo pensando. Infatti siamo anche qui per l'ispirazione. Noi siamo nella qualificazione a Ischia 2020. Semifinale, come la nazionale femminile. Che è stata eliminata. È stata eliminata, sì. Che è stata eliminata. Grazie.